abbiamo tantissime ricette da proporvi abbiamo un agnello gratinato al forno con i carciofi ricordate leonardo non vi abbandona mai abbiamo girato insieme tutto il mondo conosciuto luoghi fantastici cattano velocissimi dalla prima fila ma c'è subito una caduta che coinvolge c'è un'isola in mezzo al mare veniteci a cercare grazie